in gara oggi alle 15.15 si avverrà in verde e sarà in gara nel frattempo qualche regolazione come vedete ad esempio la barca di anni di gara in questa categoria la barca di gara in gara in gara in gara in gara in gara in gara e recupero manuale e 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti